Buona giornata da prealpina.it. Partiamo dalla situazione covid. Il quadro peggiora e c'era da aspettarselo. Ieri nel Varesotto si sono contati 541 nuovi positivi. A preoccupare è la percentuale di positivi su un numero di tamponi che è arrivata a livello regionale al 13%. In Lombardia si sono superati i 500.000 contagi dall'inizio della pandemia, quindi da quasi un anno. Siamo ormai a 500.758. Tornano a crescere i ricoveri in ospedale e anche quelli nelle terapie intensive che nei giorni a ridosso di capodanno avevano invece visto un deciso calo. Si teme un ritorno in zona rossa ed è il governatore Attilio Fontana a ipotizzarlo. In Lombardia la scorsa settimana l'RT si è assestato intorno all'1,24. Ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa, ha detto questa mattina il governatore. Mi auguro che questi numeri si invertano anche perché zona rossa significa chiusura delle scuole. Oggi nella riunione con il governo si valuterà se all'interno delle singole zone andranno introdotte nuove restrizioni diverse da quelle che oggi esistono. Ci sono dei comportamenti che non possiamo più permetterci, ha ribadito il governatore. L'ondeggiamento fra zone gialle, arancioni e rosse non porta a una stabilità. Credo, ha continuato, che con i nostri tecnici dovremo concentrarci sull'individuazione di quei comportamenti che sono assolutamente da escludere, di quelle attività che sono da non svolgere e ciò consentirebbe forse un comportamento più equilibrato, non così altalenante. Intanto nelle strutture sanitarie della Lombardia sono state effettuate 10.328 nuove vaccinazioni anti-covid, portando il dato complessivo a oltre 68.828 somministrazioni a partire dal 27 dicembre scorso. Non c'è un ritardo, dice Fontana, perché questa non è una gara a chi arriva prima. Anzi, chi arriva prima rischia di trovarsi in difficoltà. L'accordo infatti prevede che il primo giro finisca il 28 gennaio e così sarà, ha detto Fontana. Abbiamo conservato le dosi necessarie per il richiamo per essere sicuri di portare a termine il tutto entro febbraio. E per fare il punto sulle vaccinazioni, il presidente della Commissione regionale sanità e leghista Emanuele Monti ha convocato in audizione per mercoledì Giacomo Lucchini, responsabile incaricato da Regione Lombardia per gestire la campagna vaccinale, e il direttore generale al welfare Marco Trivelli. Dovranno fare chiarezza su ogni via delle siringhe sbagliate da parte della struttura commissaria reale del governo e sugli invii delle fiale. Intanto c'è chi le regole le rispetta e chi trova sempre nuovi sotterfugi per aggirarle. A Castellanza è stato chiuso per cinque giorni uno dei bar della galleria commerciale del Gigante. Lì i clienti venivano serviti direttamente ai tavoli senza effettuare l'asporto. Sabato, sotto gli occhi di molte persone che stavano facendo la spesa, i militari dell'arma hanno effettuato un sopralluogo e colto sul fatto baristi e clienti. I titolari non hanno potuto fare altro che abbassare le saracinesche. Già da giorni, dicono alcuni clienti del supermercato, succedeva di vedere che, in modo discreto, i baristi creassero un angolino dove poter far sedere le persone anziane che magari facevano fatica a stare in piedi. Già a ridosso del Natale i carabinieri intervennero a Olgiateolona, nel quartiere del Gerbone, dove in non bar si continuavano a trovare clienti in orario serale. Passavano dal letro con le serrande abbassate, pensando di poter fare bisboccia indisturbati. I vicini di Gaza avevano allertato l'arma e anche lì erano scattate chiusure e sanzioni. E cambiamo pagina, il sole rende piacevole uscire ma il gelo non demorde. Il freddo regala però anche magie emozionanti, soprattutto in Valganna. Lo hanno sperimentato domenica quanti hanno potuto ammirare le cascate delle grotte completamente ghiacciate e anche chi ha pattinato sul ghiaccio verso Mondonico. Sopra la torba si è creato uno strato talmente spesso da consentire di avere sicurezza e di camminarci, patinarci sopra. Le famiglie della zona si sono concesse una domenica con slittini, bob e pattini, usando anche delle sfide di hockey. Vediamo come è andata nel servizio di Elisa Polveroni. Buongiorno, siamo nella Siberia Varesina, la Valganna. Alle mitiche grotte si è rinnovato questo fenomeno naturale splendido delle cascate ghiacciate. Complici la temperatura che qui rimane sempre sotto zero o spesso sotto zero, si è nuovamente formata questa meraviglia ammirata da tanti automobilisti che passano sulla Valganna. Un'altra magia della Valganna è il laghetto di Ganna completamente ghiacciato che diventa una pista naturale per una domenica sicura, senza particolari assembramenti. Ci sono molte persone del posto soprattutto che si divertono con i bambini sul laghetto completamente ghiacciato. Ma il ghiaccio non regala solo spettacoli della natura. Ci sono anche dei disagi purtroppo e questa mattina lo hanno sperimentato i pendolari. A causa degli scambi ghiacciati, dopo una notte con temperature attorno almeno 4 gradi centigradi, i treni hanno accumulato ritardi tra i 20 e i 40 minuti su tutte le linee di Trenord dirette dalla provincia di Varese verso Milano. Guasti alla stazione di Porta Garibaldi e quella di Melzo e i pendolari sui convoli in arrivo da Domodossola hanno subito pesanti ritardi, idem per chi cercava di raggiungere la Veno. Lo scambio rimasto paralizzato dal ghiaccio è stato quello della stazione di Barasso Comerio. I treni sono rimasti bloccati e la stazione di Casbeno. E chiudiamo con lo sport con l'esultanza delle squadre bustesi. La propate a calcio ha vinto a Livorno 2 a 0 ed è quarta nella Serie C, mentre nella A1 femminile di pallavolo le farfalle della Uiva hanno battuto il Brescia, riconquistando il sorriso dopo i guai dei mesi scorsi. Per Alpina.it vi ringrazia per aver seguito questa edizione, vi dà appuntamento alla prossima alle 19 di questo pomeriggio e vi augura buona giornata. Grazie a tutti.